il testo quindi farò questo ma se io invece con sinistro infatti io non so se il testo è finito allora cosa faccio? qui guarda, apro mi fa colpire poi questo vado a lavare proprio prima prima che scende come vedete, avete notato come è caduto già? quella di prima, caderebbe anche così guarda quando io faccio questo a basso e tolpisco cioè lui cade giù ok? quindi dovete trattinare questa parte dove c'è la pistola la seconda poi nella sinistra passo sempre avanti ma è la stessa interazione vuoto, blocco a me e guado al colpito quindi tolpello qui andrà giù e poi subito devo andare a fiscare questa rompendo le tigra quindi un vero grazie 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 grazie